In caso non lo sapessi, quelli lì sono figli, non si usano solo per gli imballaggi, ma anche per l'identificazione. Guarda da vicino e capirai. Vedi quel rosso? È il tuo sangue. Sam, parla Deadman. Ho calibrato il BB in base ai dati fisiologici che ho racconto da te prima, ma è solo approssimativo. Quando l'avrai provato, potremo controllare la vostra sincronizzazione e regolare la sensibilità del BB. Questo scomparto eliminerà la materia virale dalla tua tuta. A proposito di tutte, blu per i corrieri e rosso per i sanitari, arancione per lo smaltimento di cadaveri e nero per la vigilanza. Allora, ho! Con questo terminale puoi consultare il database della Bridges, che include molti tipi di argomenti. Non puoi accedere al database completo, ma troverai comunque informazioni utili. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 See! mi chiamo se non farci caso non Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Sì. 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 Sì, sì, sì. Questo è per te. Che bella giornata. Bravo, Sam. Hai recuperato un carico smarrito. Depositalo qui per l'elaborazione. Se ne trovi altri mentre sei fuori in missione e non pensi di poterli portare a destinazione, li puoi sempre immagazzinare. Così saranno al sicuro finché non verrà un altro corriere a finire l'opera. Anche se poi li prenderanno in consegna tanti altri corrieri, avrai la soddisfazione di aver contribuito. Grazie. 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 sotto la pioggia più del necessario. Sam, ti trovi davanti a un dirufo o a una salita scoscesa, non dimenticare la scala che ti abbiamo provato. Ti consiglio di provarla. Mi interessa vedere come la può usare un professionista. Oh, no. Grazie. 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 Sono sen! Sono sen! Hei! Grazie. 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 Già, è proprio un peso piuma. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.